benvenuti al nostro nuovo videogiornale solennità di san rinaldo è stato celebrato martedì 9 febbraio nella concattedrale di santa maria assunta nocera umbra il solenne pontificale ufficiato dal vicario generale don jean claude asumé in occasione della solennità di san rinaldo patrono di nocera umbra e compatrono della diocesi è stata una solennità celebrata in tono ridotto vista la situazione pandemica da covid 19 per evitare spostamenti le celebrazioni sono state presiedute dai sacerdoti del vicariato e a ciascuna celebrazione hanno partecipato al massimo 50 fedeli lunedì 8 febbraio pomeriggio dopo i primi vespri celebrati nella concattedrale è seguita l'apertura dell'urna con le spoglie mortali del santo vescovo eremita la santa messa è stata celebrata nella cappella del santissimo sacramento visita pastorale a torchiagina si è conclusa domenica 7 febbraio la visita pastorale del padre vescovo alla comunità parrocchiale di torchiagina la visita è iniziata venerdì pomeriggio con la celebrazione dei vespri nella chiesa di la madonna del rosario san carlo sono stati tre giorni in cui il vescovo domenico nel rispetto delle norme anticontagio ha incontrato tra gli altri le religiose i membri dei due consigli parrocchiali le comunità maria famiglie del vangelo i genitori dei ragazzi del catechismo il gruppo liturgico accoliti e ministri straordinari della comunione i membri delle confraternite le catechiste e i ragazzi del catechismo e l'intera comunità parrocchiale domenica mattina il padre vescovo ha presieduto la santa messa celebrata a conclusione della visita pastorale nel pomeriggio è seguita la visita alla comunità di san gregorio giornata mondiale contro la tratta di persone un'economia senza tratta di persone preghiamo con santa bachita è stato il titolo dell'iniziativa che si è tenuta lunedì 8 febbraio pomeriggio nella chiesa di santa maria maggiore santuario della spogliazione ad assisi in occasione della giornata mondiale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone il momento di preghiera è stato organizzato dalla caritas diocesana in collaborazione con i diversi istituti religiosi e i volontari che da mesi prestano il loro servizio all'emporio solidale diocesano sette ceste di santa maria degli angeli l'otto febbraio non a caso si celebra anche la memoria liturgica di santa giuseppina bachita religiosa sudanese appartenente alla congregazione delle figlie della carità proclamata santa da papa giovanni paolo secondo il primo ottobre 2000 nata nel 1869 in un piccolo villaggio del sudano occidentale all'età di sette anni fu rapita da mercanti arabi di schiavi per il trauma subito dimenticò il proprio nome e quello dei propri familiari i suoi rapitori la chiamarono bachita che in arabo significa fortunata venduta più volte dai mercanti di schiavi su mercati di lobeid e di cartoon conobe le umiliazioni le sofferenze fisiche e morali della schiavitù giornata mondiale della vita consacrata martedì 2 febbraio nella cattedrale di san rufino è stata celebrata la giornata mondiale della vita consacrata nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sanitaria hanno partecipato alla santa messa i consacrati e le consacrate della diocesi la liturgia della festa della presentazione di gesù al tempio è iniziata con la benedizione delle candele accese al termine dell'omelia è seguito il rinnovo dei voti dei consacrati e delle consacrate giornata mondiale del malato la ventinovesima giornata mondiale del malato ci invita a riflettere sul valore della relazione interpersonale di fiducia a fondamento della cura del malato il nostro vescovo monsignor domenico sorrentino pur in un periodo di distanziamento sociale ha voluto testimoniare la sua vicinanza visitando i principali istituti sanitari della nostra diocesi durante queste visite in una sorta di cammino in fraternità abbiamo potuto sentire molte testimonianze emotivamente forti abbiamo potuto pregare insieme tutto il percorso si concluderà durante la cerimonia della celebrazione eucaristica l'undici febbraio azione cattolica si terrà sabato 13 febbraio dalle ore 10 alle 12 e 30 in modalità telematica il 41esimo convegno bachelet dal titolo il grido della terra e il grido dei poveri e dei sofferenti ci interpellano il cammino della fraternità e dell'amicizia sociale organizzato dall'istituto vittorio bachelet fondazione dell'azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici il programma dell'evento prevede una presentazione curata da gian candido de martin professore merito di diritto pubblico e presidente del centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche vittorio bachelet della luis guido carli di roma e avrà come titolo i sogni si costruiscono insieme padre francesco occhetta scrittore giornalista della civiltà cattolica e coordinatore del cammino di formazione alla politica connessioni guiderà la riflessione sul tema dalla laudato sì alla fratelli tutti un percorso di speranza in questo tempo tormentato che darà il via alla tavola rotonda a cui prenderanno parte nadia marrazzo lorenzo caselli rosi bindi luigi fusco girard le conclusioni saranno curate da matteo truffelli presidente nazionale di azione cattolica italiana per il programma dettagliato dell'evento e qualsiasi altra informazione rivolgersi alla segreteria diocesana di azione cattolica alla mail segreteria a c assisi chiocciola gmail.com vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie in realtà della diocesi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 43 42 vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo video giornale grazie a tutti